eccoci qua ragazzi allora oggi con napoleone terzo andremo a giocare a un gioco che mi hanno consigliato di portare questo video qualche persona una volta ci ho giocato ma una volta non mi ricordo neanche più che gioco è da quanto non mi ricordo ah ci dice di fare inserisci il nome vabbè finchè il nome eccoci qua allora abbiamo il nostro nome è qui ciao vincenzo ciao anche lei inizia avventura ok no onesto onesto questo parla tipo un gioco tipo di quegli antichi quanti quanti siete di preciso calma calma io ancora devo capire bene dove cacchio mi sto trovando innanzitutto oddio sono zombie bene allora che devo fare clicca su un sacchetto di semi per selezionarlo ottimo lavoro clicca sulla spara solare che scende per raccogliere eccellente ne hai raccolto a sufficienza eh io me ne vado va no scherzando eccoci ehm pressione un altro spara semi non permette ai zombie di raggiungere la tua casa guarda secondo me mi mangiano però va bene non lo permetterò ok iniziamo dal livello allora qua ne posso pensare quanti ne voglio qui sono che zombie ma nei prossimi livelli questi sono di più questi zombie può essere orda finale già non è così è stato più un resto del mondo però ok ah quindi prima si stacca il braccio però quando lo colpisco e poi vinco così si stacca la po' la testa ok quindi ma scusate i zombie spuntano solo in quella fila d'erba interessante ecco si sono arrabbiati lo so per voi ed osami anche zitto 50 soli ok girasoli sono delle piante estremamente cerca di pentarne da meno 3 ah ho saputo con i soli queste ma buono più di girasoli hai più ovviamente cresceranno le tue piante guarda ne pianto il minimo 3 come hai consigliato tu perchè io seguo il gioco oi che è successo ave ah non fa niente però cioè se comunque non posso non posso piantarlo se non ho i soli ma cosa si danno tipo energia per generarsi alla pianta tipo chi da concime acqua tutti questi soli cioè che so la la moneta di scambio si gira solito boh puntano un po' dal cielo così e un po' merita a loro comunque da quando il girasolo vi mostrerò adesso vado a un girasole e glielo chiedo allora questa però che pianta dovrebbe rappresentare perchè questo è il girasole un po' grande però un girasole questo che invece dovrebbe rappresentare i piselli le piante di pisello saranno i piselli no ti saranno al giorno vabbè allora innanzitutto porteremo un po' di questo di piante contro zombie però non vi preoccupate che porterò anche altri contenuti nel caso poi aggiornatevi sempre su questo canale e poi vedete anche altri video nel frattempo pensiamo ad un altro spara semi si chiama si spara dei semi ah no sono dei semi allora semi verdi infatti spara semi chiaro dormire la bandiera oddio c'è il cervello sopra no 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 aiuto voglio conquistare aiuto dovremmo tecnicamente riuscire a spingerli oh li so due oh li so due no 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 cavolo cavolo eh no le ciliegie i ricordi del vietnam no ma spado tutti i zombie nell'aria circostante potrebbe essermi una cosa molto utile ma tipo tanto tanto utile sono due ciliegie con 650 soli direi che ce le possiamo permettere e loro chi sarebbero precisamente perché ho visto dei zombie con un cono in testa vabbè dovrebbero essere resistenti come quelli normali suppongo forse quelli sono decorazione distinguerli o perché non c'ho niente da fare c'ho nessun cappello e dunque che cosa era quello non capito bene io provo che siamo più resistenti eh ah ma spuntano qui sotto la barretta dell'avanzamento eh ancora capisco ma scusa una cosa ma questi fili d'erba adesso sono tre no come terzo livello ma questi fili d'erba che spuntano cioè si fermano si fermano qui secondo me andranno avanti fino a questi due e poi si fermano molto labile ma se uno zombie passa di qui come faccio metterci la pianta cioè non ci può passare tecnicamente perché ce la posso mettere la pianta qui no ce la posso mettere la loro non ce la posso mettere in corizzonte non è forse usare le ciliegie può essere molto labile molto labile casomai spassone di qua uso le ciliegie tanto tanto nella circostante dovrebbe essere così così dove ho fatto con il mouse così ecco si è più resistente diciamo ecco esaminiamo questo è un cono segnalettico no però di questo paese me ne conosco io non li fanno così con i segnalettici sarà di un'altra città questo vabbè tanto è molto resistente attenti eh infatti prima si rompe il cono e poi colpisce lo zombie ma non mi sta a piacere a me sta cosa io ho paura che poi qua arrivano 500 zombie che lo seguono sto zombie segnaletti io userei una bella ciliegia ma alla fine anzi la conservo sapete adesso la conservo ma la ciliegia alla fine faccio esplodere appena arrivano tutti i zombie da botti faccio qua guarda c'ho la bella messa qui bel botti faccio qua quando prendo il sole che mi servirà in futuro progressi bello belli progressi poi arrivano altri attento gigantesca ordata vai però prima ci puoi un attimo passare così a me non lo sprechiamo per il secondo la mettiamo al lato che lo hanno detto da qui zombie è andato ciao amici betti amici buuuu ma questo chi è benvenuto benvenuto chi tu sei muro di noce blocca i zombie protegge le altre piante guarda per ora non ne ho bisogno onestamente anche se sono un po' più zombie però lo userò lo userò ok iniziamo a mettere un girasole innanzitutto siamo a quarto livello mi sa che però mi ricordo una cosa che uno mi ha detto come uno giocava questo gioco e non mi ricordo assolutamente niente mi hanno detto due cose fondamentali uno di piastra sempre si gira solo infatti lo sto sempre facendo almeno cinque quando lo spuntano ho più stati di armi infatti sono spuntati altri due e e due che me lo ricordo ho spuntato poi ci penso ah si che duravano ogni livello fino al livello dieci mi hanno detto e poi tipo c'è una cosa finale che mi hanno detto che non so che cosa lo sai ma mi ha detto devi scoprirlo ho detto lo scopriamo però io c'è un attimo cioè perché non lo sapeva neanche lui mi ha detto cioè non ce l'ha arrivato lui è tipo è un livello che manco mi ricordo io mi sono indicato tutto due anni che non ci gioco mi sono indicato tutto non so più niente che ho perché ragazzi come sapete faccio la terza media quindi sto pensando più però a questi esami in cui porterò la prima guerra mondiale collegato con il verismo e altre cose sembra se la porto ok allora già però è più difficile difendere un'area di più di 5 blocchi però finché ce la caviamo così facilmente non dovremo avere problemi tecnicamente io basta che piazzo cioè sto a posto piazzo uno di là uno di qua seguo un po' un po' l'ordine un po' la simmetria oh guarda oh raga ce la stiamo cavando molto facilmente non me la vorrei occupare che sicuramente poi mi arriva un zombie speciale chissà cosa però tanto ce la stiamo cavando possiamo dire conserviamo la bomba conserviamo la bomba però come facciamo adesso con la bomba c'è un piccolo problema perché non possiamo metterela solo a centro dovremmo mettere anche l'alti ma ciò chi c'ha più zombie mettiamola andiamola qua altrimenti in condizione di la sola infatti fanno fuori questo così non arriva l'ondata finora ci sta ci sta ci sta guardatemi dadmi grazie oh sole 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 quasi posso fare due e sono a posto qui non vi vedo più in un'onda vai 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 chi ha più zombie andiamo facciamo un attimo passare il tempo c'era la parte centrale più zombie andato simmetria prego a noi questo aspettiamo nel frattempo ci mettiamo come di su la nostra sedia dai che riusciamo a fare una cosa simmetrica magari sarebbe bello ma non ci riusciamo però posso pentare lo stesso dai perché sennò la simmetria non viene una pala allora possiamo sbattere adesso uno zombie sarebbe un lato positivo consente di estrarre una pianta e sostituirla con un'altra appala ah non li posso battere è stato un zombie mi sembra che potevo usare come un battimento tipo una nuova pianta ma chissà infatti non era una pianta ok che è successo oddio buongiorno signore in cui ha una pentola in testa molto accogliente ciao ciao quindi salve salve io sono io sono Dave noto a tutti come Dave il pazzo se passo perché andassi una pentola e quindi ti chiamano pazzo o perché proprio sei pazzo veramente ma vogliamo mi semplicemente Dave il pazzo no perché mi sa che è pazzo veramente ho una sorpresa per te che sorpresa hai mi da un altro esplosivo prima però dovresti dare una sistema d'altoprato guarda tenerli così era una pala difesa in più però forse era un po' sconciato usa la pala per tirare via quelle piante che gli scavi abbiano inizio bello bello come si devo lanciare devo lasciare clicco 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 apposto oh e per quanto riguarda la sorpresa è ora di un po' di bullying bullying ci sarebbe un problema mi mancano le scappe da bullying se non l'avevo fatto volentieri però faccio lo stesso dai sei molto felice comunque di fare bullying ecco prendi questo mulo di noce guarda per usarlo magari nel bullying sarebbe un cazzino perché sta come protezione lui vuoi sapere che te l'ho dato si sentiamo perché sono pazzo ecco te pareva che era perché era pazzo molto sistematico ora vai voglio vederti vincere vinco vinco ti preoccupare posso usare gli sparasemi no che dè un carrello fa la spesa aiuto c'è la spesa c'è la spesa sono gratis le cose non devo pagare nemmeno buono buono allora siamo ai muri non facciamo ripassare nella linea perché sennò avanzano di arreno e non ci piacerebbe sta cosa perfetto buttiamoli qua quanto tempo torceri buttiamone uno qui buono buttane uno qui ah le posso anche uccidere più di uno buono questa cosa mi piace buono buono usano uno qui ok allora adesso sono un po' i nemici aumentano io non ho armi sufficienti buono buono devo cercare di farli combinare sti attacchi qua sopra proprio qua tu oh buono tre colpi consecutivi buoni dobbiamo fare sempre così oddio che è non c'è esplosiva grazie davvero mi ha ascoltato vuole un altro esplosivo non c'è esplosiva esplosivo provi a testiamo oh sono a passare sta linea quattro buono no volevo usarla vabbè lo so qui dai che è meglio buono ok uh che forte è molto figo perché me li sbaraggia me li leva tutti in due secondi con questo esplosivo devo pure la bandiera facciamo un po' così un po' così non c'è esplosiva ma guarda che volta non c'è esplosiva mi servirebbe leggermente però in questo caso ma leggermente ma non ti chiedo un favorone non mi stanno per conquistare il terreno tranquillo ciao ciao buono come sei rimasto come io resistito 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 all'esplosione facci pensare a lui bravi chi è è che è un tubero chi è si è un tubero una patata con il coso sopra è una patata sembra ovviamente propongo un ratto allo stesso tempo un ratto come si chiamavano talpe mi sa si chiamavano tubero esplosivo esplodere al contatto ma richiede tempo per l'innesco ci sta ci sta devi sbucare dal terreno comunque sarà un ortaggio te lo direi forse un ortaggio testiamo questo ortaggio aspetta ma l'ha spuntato ma io ho uno zombie nuovo perché ho visto uno con il bastone quindi non so se era uno zombie nuovo mi sembra un attimo confuso perché non l'ho visto bene non ho fatto caso a questo tubero bello non aspetta fammi riusci pensare allora se era uno zombie con il bastone allora sono tre le cose perché ho visto anche con la tuta se non erro magari mi sto anche bagliando io però intanto lo dico allora o mei lancia quella cosa come giavellotto più o meno o quindi quel bastone o fa l'atleta quindi l'atletico quindi che fa il salto in lungo con il bastone lì o diciamo colpisce questi queste palle questi semi che volano e tipo lì respinge e devo mettere un esplosivo per sconfiggerlo però perché l'ho visto un attimo con un zombie con un bastone tipo un po' atletico quindi non so se ho visto male ma comunque l'ho visto io non sono così tanto cieco onestamente stavo pensando a tuber esplosivo non ci stavo facendo caso perché lo stavo pensando però diciamo che l'ho un po' l'ho un po' visto come dice qualcuno veduto buono buono questo ah anche qui c'ho la palla buona però mi serve però se faccio un errore mi serve però buono soli 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 usiamo usiamo tubero poverino usiamo no c'ho avuto mi riesco a bo allora non mi sbagliavo pure capelli biondi pure fai così oggi insomma c'è un fotolato vai ah ma non lo bloccavo non l'ha bloccato allora però l'ho scelta due quindi è un atleta è un atleta che fa stato è lungo però poi cammina normale e gli fanno male poi le gambe a quello che sto tipo ma poi cammina tutto storto vabbè lo posso uccidere così normalmente non so quanto è conveniente perché corre pure sto qui pure corri ma ti faccio una cosa elegante qui ecco fatto te ne sparo pure tre segnaletico te ne sparo pure tre e certo te ne sparo fai i butti vabbè facile 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 a posto ma è attaccato con lo scotch questo numero perfetto però aumenta come automatico eccoli qua no no mi serve la bomba la bomba la bomba la bomba la bomba di la bomba di qualcuno vai tecca ho fatto fuori l'atleta abbiamo vinto allora di riguardo al suo aspetto è molto onesto e secondo me sparerà un ghiaccio vediamo spara brina ok già dal nome spara semi congelanti oddio che danneggiano e rallentano il nemico buono è utile è utile vabbè ragazzi come dire spero che questo episodio di piante contro zombie mi sia piaciuto e se ancora non lo sapete io sono vincenzo e se ancora non lo sapete e quindi domani quindi proveremo questa spara brina e ci vediamo a un prossimo video ciao ragazzi